musica ragazzuoli come state bentornati con un nuovo video questo video è il video riassuntivo dell'evento con Will Hunt a Cagliari il suo drum show che abbiamo fatto con dei sacrifici e con un impegno al limite dell'umano questo è un evento che veramente non abbiamo cancellato per pochissimo come sapete l'evento era domenica 16 e sabato 15 ci sono stati un sacco di scioperi nazionali e abbiamo perso il volo o meglio i voli persi sono due uno rischedulato dagli Stati Uniti e uno perso da Milano a Cagliari quindi abbiamo dovuto riprendere due giorni prima un biglietto da Milano a Cagliari comunque vi immaginate quanto costa un biglietto aereo comprato last minute da Milano a Cagliari in periodo estivo non l'abbiamo cancellato per diversi motivi il motivo più diciamo alcuni erano più razionali altri più emotivi il motivo più razionale era quando a caso ci ricapita invece il motivo più emotivo motivo più emotivo era che il nostro Danilo è un suo fan a Canitonon che è il suo battista preferito e Danilo questi mesi ha vissuto una serie di gioie incredibili nell'attesa di questo evento e cancellare questo evento voleva dire di base spezzargli il cuore o comunque rovinargli un sogno e io so quanto lui ci tiene perché per lui conoscere Will Hunt era come per me conoscere Igor Cavalera quindi so bene cosa stava provando so bene quanto ci teneva e so quanto sarebbe stato distruttivo cancellare questo evento quindi alla fine è tutto sotto ragazzi facciamo questa cosa combattiamo contro tutto e tutti e non so come cazzo abbiamo fatto siamo riusciti a farcela anche perché lui è arrivato domenica doveva arrivare domenica alle 5 l'apertura delle porte del locale era alle 7 e mezza lui è arrivato alle 5 ma lui è arrivato all'aeroporto alle 6 abbiamo spostato le porte dalle 6 e mezza l'apertura delle porte dalle 7 e mezza alle 8 e siamo arrivati al locale alle 6 e mezza e in un'ora e mezza siamo iniziati a fare il check della sua batteria quelle degli openers erano già state fatte prima un'ora e mezza aprire alle 8 e poi tutto è filato abbastanza liscio vedremo oggi se riesce poi a partire da Sassari ma questo è un altro discorso quindi un evento bellissimo un batterista dalla madonna che io volevo vedere tanto perché l'avevo già visto però vedere un batterista così fa sempre bene fa sempre bene perché è una grande lezione e per me vederlo fare il soundcheck vedergli provare i suoi trigger perché sapete lui la batteria che è anche tutta triggerata quindi ha dei suoni della madonna quando suona lui da vedere è fantastico e da sentire pure è un suono imponente è un modo di suonare meraviglioso maestoso e che dir si voglia per me è un grandissimo batterista un grandissimo showman ed è perfetto per gli Evanescence è stata anche la scelta migliore per Vasco Rossi per il suo trip metal come vi ricordate c'è la doppia cassa tra le parti il mitico intro del concetto di qualche anno fa quindi è stato un evento molto bello tra l'altro abbiamo fatto un drum fest come sapete stiamo facendo adesso questo formato in cui suona un ospite internazionale e poi diamo l'occasione ai nostri insegnanti più meritevoli di esibirsi e appunto imparare confrontarsi con un grande della musica e avere anche un'occasione per studiare perché questo è mettere un drum fest e metterti in apertura uno come Willant ti obbliga a mettere il culo sul seggiolino e impegnarti tanto e così è stato per me per Oreste Pani per Alex Picciao per Alessandro Castellano e per Mattia Multas coloro che hanno aperto l'evento quindi in definitiva è stato un evento assolutamente memorabile per me per voi per Danilo soprattutto poi la cosa più bella è che Danilo ha potuto poi seguirlo andando a prendere in aeroporto scusate sì andando a prendere in aeroporto l'ha portato a cena era presente alla pizzata e al post pizzata finale quindi Danilo come ho scritto su Instagram mi devi 40.000 euro per questo sogno realizzato e ragazzi ce l'abbiamo fatta grazie come al solito per il vostro aiuto perché alla fine io posso anche pensare alle se stronzate ma se voi non venite io sarei in bancarotta quindi grazie a voi grazie a tutti i miei collaboratori che ogni volta si dimostrano sempre più incredibili sempre più disposti a sacrificarsi per una buona causa come in questo caso e menzione speciale alla mitica nostra luna Elisabetta Sensi e lei sa il perché ci ha dato una mano ancora una volta tanto quindi grazie a te Elisabetta e grazie a tutti voi che avete partecipato all'evento con Will Hunt a Cagliari un evento storico e presto ne faremo altri un abbraccio a tutti ciao ragazzi a Cagliari